Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo nel giardino del convento, qui vogliamo raccontarvi la storia di un monsignore fiorentino che si chiamava Dindico, aveva una sorella che era ridotta in fin di vita col paratifo, cosa successe? Successe che lui era nel suo studio appena terminata l'eucaristia e rifletteva soprattutto sulla sofferenza della sorella a cui lui era molto legato e chiedeva, chiedeva a Dio e soprattutto anche la stessa intercessione di Padre Pio. Bene, ad un certo punto lui si sentì e percepì la presenza di qualcuno alle sue spalle, si girò e percepì, vide quasi un frate che si stava allontanato, preso dalla paura chiaramente in quel momento uscì fuori dal suo studio, andò verso la sacristia, c'era il sacrista che lo vide quasi impaurito, gli raccontò che cosa era successo e il sacrista che conosceva la storia della sorella, il suo stato d'animo, fece di tutto per farlo rallegrare un po', lo portò a fare un giro per il paese. Quando i due andarono a casa della sorella si sentirono direttamente chiamare dalla stanza e inaspettatamente la sorella dallo stato comatoso in cui versava a causa del paratifo si era ristabilita, stava molto meglio e Monsignore si avvicinò al letto e disse ma tu stai bene e lei disse stanotte ho sognato Padre Pio, è venuto qui, mi ha svegliata e mi ha detto tu domani non avrai nessuna traccia di questo male nel tuo corpo e ti ristabilirai nel giro di pochissimi giorni, tu guarirai e così fu, la sorella di Monsignore si ristabilì nel giro di qualche giorno e guarì totalmente. Grazie mille! Grazie a tutti.